Una bella iniziativa questa di Ciro con i ragazzi del liceo scientifico, tante domande interessanti e soprattutto la voglia di capire da che parte bisogna stare e cosa si deve fare. Sì, un complimento veramente a questi ragazzi che sono stati attenti e partecipativi e direi che è una grande soddisfazione quella di parlare a dei giovani che poi sanno discutere, sanno fare domande e sono interessati. Questo significa che inizia ad esserci una consapevolezza che direi è fondamentale per poter poi attrezzarsi in modo da individuare e colpire l'andrangheta. Questo è un momento secondo me importante nelle scuole perché nella scuola non c'è la possibilità di studiare la storia della criminalità organizzata, ancora non è tra quelli che sono i curriculum, insomma le materie da imparare a scuola e quindi parlare con loro in questi momenti significa dare loro delle notizie importanti per sapere veramente individuare quelli che sono i problemi che ci pongono in questa terra le organizzazioni criminali. E questo è secondo me uno dei ruoli che deve avere anche chi quotidianamente ha a che fare con l'andrangheta per motivi professionali, parlare con i giovani. Lei ha parlato tanto, continua a parlare, ma questa volta il suo parlare è ben accolto da tutti ed è un parlare per la legalità. Sì, io credo che la parola come dico e come ho voluto dare come messaggio in questo libro è fondamentale. È fondamentale per vincere attraverso le denunce l'andrangheta, è fondamentale per far conoscere quelle che sono le neefandezze che si porta dietro l'andrangheta. Sì, io credo che la parola come si porta dietro l'andrangheta,